Buongiorno, sono Paul Barrow della Stark. Siamo qui alla fiera di Ise con i nostri prodotti. In primis la nostra libreria interattiva. Questa è la nostra libreria antica dove uno ha la possibilità di scegliere un'interfaccia, di scegliere un proprio libro che viene magicamente fuori dallo schermo e uno può sfogliare il libro con un tocco semplice della mano. I contenuti chiaramente possono essere quelli che vuole il cliente. Il sistema è completamente flessibile in quanto può inserire una quantità di informazioni quasi limitata. originalmente sviluppato per musei, ma da questa parte viene venduto sia in alberghi, ovunque dove c'è bisogno di presentazioni di contenuti in modo interattivo. Passiamo poi al secondo nostro prodotto che è quello che noi chiamiamo l'Interactive Matrix, che è un sistema integrato di proiezione a terra e a parete controllato da un sensore gestito dal nostro software. chiaramente come con la libreria interattiva il cliente ha la possibilità completa di gestire il sistema a suo piacimento, cambiando gli sfondi e gli effetti come desidera. Stark è probabilmente più conosciuto inizialmente sul mercato con i nostri proiettori architettonici che sono i proiettori più piccoli, più potenti che ci sono sul mercato mondiale. Funzionano a film e permettono di fare dei grossissimi immagini fotografici su pareti, edifici, stadi, per grossi eventi insomma.